Buon salve gente, buon salve, benvenuti o bentornati nel lato scuro. Io sono Giulia ma potete chiamarmi G o anche sua malvagità, cosa che oggi secondo me è particolarmente in topic, visto che stiamo per parlare, non spoiler in maniera estremamente generale, ma secondo me è abbastanza efficace, della seconda stagione di Shadows and Bones uscita su Netflix recentemente. Non preoccupatevi se non conoscete la prima stagione o se non conoscete il background letterario di questa serie perché farò una piccola ricognizione prima di darvi il mio parere. Non ho bisogno di andare nei dettagli quindi è per questo che diciamo non ci saranno spoiler perché secondo me il parere generale che posso dare francamente farà anche pochissimi spoiler della prima stagione. Voglio raccontarvi perché secondo me questa serie tv purtroppo era già destinata a non essere chissà cosa nella seconda stagione, si è rivelata forse peggio delle mie aspettative. Non vuole essere un villa in caffè, non sarò particolarmente sarcastica e arrabbiata perché in realtà mi aspettavo che non sarebbe stata forse di mio gradimento anche se fino all'ultimo ho sperato di sbagliarmi. Diciamo che non sono particolarmente amante di questi testi che sono stati riassunti in questa stagione, non sono amante di alcune scelte che abbiamo trascinato dalla prima stagione, insomma non sono amante. Non voglio definirmi hater perché assolutamente non lo sono però diciamo che ecco capisco perché Libardugo a un certo punto ha fatto un passo indietro e è andata a fare altri progetti. Comunque prima di parlarne vi lascio alla mia solita e ufficialissima sigla. Premetto che sono in una stanza che ha deciso di essere probabilmente il set secondario del terzo Frozen e quindi è ghiacciata per motivazioni che non so. Quindi mi sono messa una sciarpina e a questo proposito ho pensato di mettermi una sciarpa che fosse in tema. Di Shadows and Bones no perché non ne ho ma di Venom visto che stiamo per parlare di disagio ho pensato di portare sullo schermo direttamente altro disagio come se fosse tipo una bandierina rossa prima di iniziare. Se non fate parte del book mondo quindi non siete fruitori di contenuti di bookstagram, booktok e booktube o se francamente non siete persone che leggono tantissimo soprattutto fantasy piuttosto recenti, forse non conoscerete il fenomeno di Shadows and Bones dell'autrice Libar Dugo. Vi avevo già secondo me contestualizzato, vi lascio qui in giro, dei video che vi spiegavano un po' forse i libri se non sbaglio. Non so se avevo recensito la prima stagione, diciamo che ne avevamo parlato sicuramente su altre piattaforme. Quello che posso dirvi è che il Grishaverse è un universo che condivide diverse storie. Abbiamo la trilogia di Shadows and Bones di cui la prima stagione ha proprio trattato il primissimo che è proprio Tenebre e Ossa e poi ci sono Assedio e Tempesta e Rovina e Ascesa che sì mi sono scritte perché non mi ricordo li ho letti un sacco di tempo fa. Erano i due libri della trilogia che sarebbero stati condensati all'interno di questa serie tv. Ma se avete visto la prima stagione sapete che oltre ai vari personaggi che fanno parte di Tenebre e Ossa ci sono anche i Corvi. I Corvi che sono quelli di Sei di Corvi e Regno Corrotto, una dilogia che fa parte sempre del mondo Grisha ma non è diciamo cronologicamente attaccata alla trilogia precedente. Quindi diciamo avete il Grishaverse di Tenebre e Ossa, avete il Grishaverse di Sei di Corvi e Regno Corrotto e poi c'è anche Il Re delle Ciccatrici e il secondo che non mi ricordo il titolo ma perché? Perché francamente nessuno mi convincerà mai a leggerli. Sono libri che ho preso proprio nel momento in cui il fenomeno di Libardugo era più forte, l'anno scorso che appunto era arrivata la prima stagione abbiamo fatto questo GDL malsano per leggere tutti i libri della Bardugo ma francamente non sono mai arrivata a Il Re delle Ciccatrici perché? Perché tutti me ne hanno parlato talmente male che già mi ero fatta questi tre libri della trilogia che francamente non sono fantastici. Diciamo che ecco mi fermo con Sei di Corvi e Regno Corrotto però all'interno di questa dilogia troviamo se non sbaglio le vicende anche di Nicolai e poi c'è La vita dei Santi che ha un volumetto piccolissimo che è super carino che tratta appunto dei Santi di questa saga e anche ci sono delle immaginine davvero molto curato, molto carino. Se non sbaglio poi c'è un fumetto che però non ho letto. Per quanto riguarda altre questioni in realtà io consiglio di iniziare Libardugo con La nona casa e Elbent. Alcuni si confondono ma questi due libri non c'entrano niente col Grishaverse e sono una saga a parte però io vi consiglio quella. Se proprio poi volete buttarvi sul Grishaverse magari partite con Sei di Corvi che vi dà questa immagine un po' più interessante anche perché appunto secondo me la trilogia originale risente tantissimo del fatto di essere stata scritta molto tempo prima e quindi di avere evidenti difficoltà soprattutto per quanto riguarda il secondo e il terzo libro che ahimè erano il tema integrante di questa seconda stagione di Shadow and Bones. Io avevo sottovalutato questa questione vi dico la verità ma tantissimo. Mi ero detta vabbè dai ci sta perché in realtà se voi avete letto la trilogia sapete che nel secondo e nel terzo non è che succedano tantissime cose. C'è un susseguirsi di eventi abbastanza caotico che porta a un finale che ha lasciato tutti molto scontenti e che invece a me ha lasciato contenta perché è un finale brutto e secondo me i protagonisti di questa serie questo si meritano. Quindi io lo trovo anche accettabile però con questa vena un po' di cinismo. Non era impossibile riuscire a tradurre i due libri della trilogia all'interno di questa seconda stagione perché bastava eliminare la caoticità e fare un po' di aggiustamenti di storia. Considerando come vi dicevo che questa saga in realtà va indietro nel tempo qualche aggiustamento di storia secondo me ci stava bene. Nella prima serie infatti abbiamo visto che ci sono stati dei minimi cambiamenti oggettivamente svecchiare un po' questa storia non faceva male. Però dicevo ho sottovalutato questa critica perché in realtà dobbiamo ricordarci che già dalla prima stagione vediamo cosa? Quella che viene definito lo split di parti. Quando giocate in giochi come D&D e comunque GDR sapete che ci sono dei momenti in cui tutti quelli che giocano sono in un unico gruppo e quindi la storia va avanti. Poi c'è quella bruttissima idea che si ha ogni tanto di dire vabbè ci separiamo come nei film horror. Sia nei film horror sia nei GDR non bisognerebbe mai separarsi sia quanto pare anche in alcune serie tv. Abbiamo visto per esempio dei fenomeni come Game of Thrones farsi forte proprio di questo split di parti di separazione proprio di intere storyline che andavano avanti in contemporanea alcune appunto un po' prima un po' dopo però diciamo che in ogni caso ecco questa era la sua forza. E' inutile secondo me raccontarcela anche Game of Thrones in alcune stagioni soprattutto ha patito di questo split di parti. Ma all'interno di Tenebre e ossa per me si rasenta la follia perché già nella prima stagione abbiamo visto che c'erano delle storyline che potevano più o meno interessarvi ma che correvano un po' parallele fino a un certo punto in cui i personaggi si uniscono. C'è la storyline principale che è quella della trilogia di Tenebre e ossa ci sono un po' i corvi che sono un po' sacrificati, un po' buttati lì ma che secondo me sono il vero fulcro di questa serie e il vero interesse anche perché la trilogia è di base molto più amata della trilogia della Bardugo. E poi c'era questa storia di Mattias e Nina. Andiamo alla seconda stagione. Il problema non è prendere due libri e farlo diventare una sola stagione di otto episodi da 50 minuti. Il problema è che tu hai lo split di parti quindi ancora una volta ti trovi ad avere dei personaggi che sì in alcuni momenti effettivamente si uniscono però di fatto ci sono proprio delle storie separate. Alcune di queste tra l'altro molto frettolose se non tutte perché questo succede nel momento in cui hai lo split di parti anche quando giochi a GDR quando è il turno della persona 1 la persona 2 sta lì così così aspettare e magari se riesce segue ma se siete come noi giochi al telefono e questo è il motivo per cui molti master fanno sparire il telefono all'inizio della giocata. Secondo me all'interno di questa seconda stagione questo è il difetto principale cioè non è che la storia sia così terribile è che l'hai divisa in tre di cui una e due sono le storyline della trilogia e della trilogia che si incontrano quindi vediamo i personaggi dei corvi e i personaggi dei griscia di Tenebreossa che in un certo modo collaborano anche se all'interno di tutta la seconda stagione continueremo a trovare spesso le loro vie separate e questo allunga il brodo e crea appunto degli episodi che mandano avanti lateralmente anche robe di cui non te ne frega niente per cui determinate quest dei corvi diventano estremamente grandi tu sei lì e dici ma non me ne potrebbe fregare di meno nel contesto di guerra della storyline principale le storyline iniziano a fare competizione cosa che abbiamo visto in realtà anche con alcune storyline di Game of Thrones che poi sono quelle non amate anche all'interno dei libri di Game of Thrones ci sono persone che appunto recriminano alcuni pov di prendersi troppo spazio e di dare fastidio quando tu vuoi leggere altro il punto è che questo è di base una scelta sbagliata cioè è una scelta che va fatta solo quando le storyline sono così potenti da offrire tre storie una di fianco all'altra così facendo diciamo sì ci sarà sempre comunque la dilatazione temporale sì ci sarà sempre la fretta nelle storie perché non hai una punta dei 50 minuti hai un quarto d'ora circa per ognuno quindi insomma ci sono delle difficoltà ma offre i tre spettacoli che tengono allo stesso modo attaccati questa è anche la questione del pov non bisognerebbe mai utilizzare in un libro un punto di vista multiplo a meno che i punti di vista non risultino tutti e tre per esempio in questo caso sono tre molto interessanti perché altrimenti c'è il pov interessante quello che ti dà noia e che ti sta facendo aspettare per invece andare avanti in quello che ti interessa e quello come in questo caso è la lore di Mattias privo di senso io lo definirei soporifero perché se quello di Tenebre e Ossa ci sono tante difficoltà ma posso scusarlo se i corvi in fondo a me i corvi piacciono quindi ho questo debole la storia di Mattias e non di Mattias e Nina visto che Nina abbiamo visto spostarsi di storyline ma la storia di Mattias è stata per me letteralmente soporifera ogni singola volta che c'era Mattias in scena io ero lì tipo ok adesso vedremo quanto 5 minuti dove non me ne fregherà niente fantastico perfetto vedere tra l'altro cercare di inserire in questa terza storyline una sostanza che è frettolosa e ripetitiva e che non fa altro che in alcuni momenti di mostrarti dei pezzi di storia molto piani molto senza conflitto e senza cambiamento e tu sei e gli dici ma eh lo sto guardando 5 minuti che non mi serviranno a niente infatti vi consiglio di fare questo esperimento in caso vediate la seconda stagione recuperate un episodio di Mattias ogni 4 e vedrete che comunque capirete completamente la sua storia perché quelli di mezzo probabilmente erano filler cosa succede? che quindi c'è una prima competizione tra le storie e se da una parte vediamo la prima storia e la seconda quindi i grisci e i corvi chiamiamoli così che in qualche modo collaborano e si uniscono anche in virtù poi di determinate situazioni più grandi con una temporalità un po' cambiata rispetto a quella che conosciamo dai libri e possiamo però apprezzare questa unione dall'altra parte ci sono storyline che rimangono lì così e che prendono del tempo per niente inoltre ogni storyline ha meno tempo come dicevo prima quindi si vede tantissimo il fatto che molti dialoghi sono tagliati per esempio c'è un dialogo del Darkling che sarebbe il Signore Oscuro ma se non conosciete la storia insomma è il cattivo principale c'è un dialogo particolarmente importante in questi due libri che secondo me bisognasse darci un po' più di enfasi perché appunto era uno di quei momenti in cui se anche il personaggio non ti piaceva comunque c'era quella falsa empatia del povero però dai non era così cattivo o meglio poverino quello che gli è successo quell'empatia alla Jeffrey Dahmer di Netflix ed era oggettivamente uno dei suoi momenti tagliato barbaramente in quattro righe bruttissime chiaramente tagli dove puoi tagliare quindi tagli situazioni secondarie ma soprattutto tagli dialoghi che secondo me all'interno di questa stagione ce ne sono alcuni che rasentano l'imbarazzante tagli molti dialoghi magari che possono servire per la caratterizzazione dei personaggi quindi tagli nel dubbio tagli qui ecco si è visto tantissimo quindi è chiaro che questa è una critica che tiriamo dalla prima stagione questo split di party non ce lo meritavamo comprendo che sia però impossibile fare un cambiamento di questo genere cioè è normale in realtà che se si parte con tre storie si continui così magari se ne toglie una ecco io una l'avrei tolta la dico però di base non potevano cioè la storia di Mattias secondo me andava tolta perché non ha questi grandi avvenimenti ma siccome l'hai presentato e hai lasciato questo cliffhanger nella prima stagione nella seconda per forza la devi ripresentare questo ha creato delle scene inutili è possibile che se c'è un solo protagonista ci sia uno split di party nella seconda stagione per esempio e si aprano più storie ma è molto difficile che da più storie si torni a una sola anche se è questo che molto spesso si tenta di chiedere di riunire il party in modo da avere ecco una storia un pochino più corposa con tutti i personaggi lì e che quindi gli avvenimenti di quella storia potessero avere più respiro quindi no a me a livello di storia non è piaciuta questa cosa però lo sapevo già dalla prima stagione veniamo invece a quelle che sono le critiche che posso fare spietatamente alla seconda ora io non voglio essere cattiva ma mi disegnano così per cui forza signore bisogna andare avanti in questa via io davvero non riesco a capire come è stato suddiviso il budget all'interno di questa serie tv perché prima di tutto vedevo anche prima di iniziare questa serie che ripeto sono otto episodi da cinquanta minuti quindi sapevo che un binge watching me la sarei sparata tutta ho aspettato qualche giorno e tutti condividevano su instagram quelle che era diciamo l'inizio di ogni puntata in ogni puntata c'è questo mini videino con scritto shadow and bones che ha una grafica computerizzata diversa e tutti dicevano quanti soldi Netflix ha deciso di cacciare fuori i soldi e io ero contenta perché più soldi per fare un'animazione del genere soprattutto necessita di più soldi quindi più soldi uguale migliori costumi miglior scenografia perché diciamo che tutte le serie che hanno una prima stagione non è che è una prima stagione pilota però si fanno un po' delle domande se può funzionare o meno quindi magari il budget è minore vedendo no questi intro computerizzate particolari ho detto dai fantastico quindi miglioriamo quello che sono i costumi del primo e le scenografie più che altro i costumi perché per quanto diciamo le giacche griscia potevano essere molto interessanti non è che a me i costumi siano piaciuti tantissimo li ho trovati abbastanza impersonali e quindi fantastico no immaginate la mia sorpresa quando a fronte di queste intro da noi ci mettiamo il cash non vedo nessuno cambiamento per quanto riguarda i costumi che rimangono assolutamente impersonali ok vogliamo dire che quelli griscia non sono male perfetto però di fatto i popolani le comparse eccetera utilizzano dei costumi che non sono terribili come quelli della ruota del tempo che abbiamo visto su prime video che sembravano presi da Bercrombi però diciamo che non sono assolutamente personalizzati al mondo in cui sono quindi fondamentalmente potreste prenderli e metterli in qualsiasi altra serie secondaria fantasy perché di base ecco io non vedevo questa ricerca dei dettagli che poteva fare la differenza nel costruire un immaginario che ha dato vita a tre saghe sostanzialmente quindi insomma già quello ma se sui costumi posso fare un passo indietro e dire che forse sto cercando il pelo nell'uovo non posso dire la stessa cosa delle scenografie che per me sono oscene oscene cioè sono inguardabili complice è anche il fatto che alcune campate alcuni movimenti di camera ci permettevano di vedere quanto minuscole fossero questa cosa per me ha dato proprio un esito terrificante cioè ci sono delle scene dove praticamente i personaggi sono in quella che è una scenografia che è grande letteralmente quel poco che gli serve e basta non c'è caratterizzazione quindi sì c'è ogni tanto questa lingua diversa quindi vediamo dei geroglifici diciamo su delle insegne fine cioè sembrava letteralmente che fossero dei set grandi così e questa cosa la trovo veramente allucinante nel senso che poi se guardiamo l'ultima puntata dove invece costumi e scenografia risaltano di più vediamo qual era la possibile potenza che avrebbe avuto questa serie anche a livello di immaginario quindi se già la storia mi risulta frettolosa e non vedo i dettagli in costumi e scenografia già io inizio a dire che qui secondo me di impegno ce n'è poco mettiamoci che poi in alcune scenografie sono state fatte delle scene imbarazzanti io cito solo così la kamehameha che c'è a un certo punto e quindi arriviamo a un altro tasto dolente gli effetti speciali ora tutte le serie fantasy hanno questo enorme problema gli effetti speciali che possono essere effetti speciali fatti col make up che possono essere effetti speciali computerizzati ma quando si gioca con i poteri è evidente che è necessario avere insomma una buona padronanza della computer grafica e invece ancora una volta mi sembra che in questa serie dal momento che appunto gli effetti computerizzati costano parecchio a me sembra che ancora una volta siamo andati a pescare nello stesso stock da 5.000 effetti per after effect a 2,50 euro perché a me la scena della kamehameha mi dispiace non me la toglierà dalla testa nessuno certo abbiamo visto di peggio in passato però diciamo che tra il fatto che l'attrice di Alina ha fatto un determinato movimento l'effetto che ne è derivato poi la caoticità di quella scena in cui a un certo punto persone si schierano dalla loro parte e letteralmente li vestono per farli scappare in una maniera ambigua strana e priva di logica abbiamo già un sacco di elementi che fanno traballare la sospensione del giudizio che è quel patto non scritto tra l'osservatore o il lettore e chi crea il prodotto di so che mi stai raccontando una storia ma io prenderò quegli eventi come reali ora io non riesco a credere francamente a una serie che ha una storia frettolosa con dei dialoghi che non mi sono piaciuti uno split di parti che mi fa pesare ogni singolo secondo scenografia e costumi che io non ho trovato assolutamente sensati effetti speciali che non mi sono piaciuti e scusate ci metto l'ultima perché abbiamo fatto 30 facciamo 31 Nicolai ha la più brutta barca che io abbia mai visto nella storia cioè a me spiace dirtelo Nicolai ma se veramente dovevi fare il corsaro con quella barca lì io neanche avrei fatto gli spostamenti di battello con quella barca io me la immaginavo completamente diversa dai libri mi immaginavo comunque qualcosa di piccolo ma elegante anche vedendo il personaggio ma anche sul personaggio di Nicolai ovviamente abbiamo avuto delle differenze rispetto ai libri dettagli dettagli comunque secondo me questo fa capire perché io questa storia non sia riuscita a apprezzarla perché c'erano troppi elementi che andavano a dare non dei calci ma proprio a pestare selvaggiamente la mia barriera di sospensione dell'incredulità ci sono elementi positivi all'interno di tutta questa vicenda per esempio Jasper Inej e anche Nina sono personaggi che mi sono piaciuti le loro interazioni le loro storie anche Kaz mi è piaciuto tra l'altro Kaz Inej basta penso siano forse gli unici due personaggi che hanno avuto delle scene di combattimento che non sembravano tirati fuori da un filmino di una recita di quarto elementare letteralmente ho visto delle robe che avremmo visto solo e unicamente in Iron Fist che è una serie Netflix che secondo me non brilla per delle coreografie di combattimento senza poi andare a parlare delle battaglie campali che per me letteralmente si meriterebbero un'intera analisi di quanto sbagliate fossero cioè riesci a farci percepire quante poche persone c'erano all'interno di determinate battaglie tra cui quella finale quindi vedevi quante poche persone avrebbero dovuto affrontare cosa dei personaggi overpower pazzeschi che con uno schiocco di dita avrebbero tritato un botto di persone e che si trovano essere incapaci di utilizzare i loro poteri in maniera efficace e fregati da quelli che sono veramente degli espedienti da Deus Ex Machina mi sono dimenticata di aggiungere le mie varie critiche che anche i combattimenti e anche l'instaurare delle battaglie che avessero un senso ecco questi elementi per me sono stati un difetto e questo ha tolto pathos a scene di azione che avrebbero dovuto mandare il ritmo più avanti o essere credibili per me la battaglia finale è inguardabile perché per quanto sia interessante diciamo in alcuni punti e ci sono delle situazioni effettivamente approfondite ho visto quella che è una battaglia che secondo me si può avvicinare a quelle brutte di Game of Thrones quantomeno per disorganizzazione della scena io non riesco veramente a accettare quando mettete in scena dei personaggi o nei libri dei personaggi OP che poi però nei momenti in cui devono combattere vengono depotenziati perché altrimenti è evidente che distruggerebbero tutti io davvero non capisco come uno squadrone di Grisha brutti e cattivi abbia potuto fare un intero corridoio perché possiamo chiamarlo così della scena finale non lo contestualizzo per non farvi spoiler un intero corridoio massacrando pochissime persone quando alcuni di loro tipo gli spacca cuore potevano fare così e proprio frantumare un botto di gente spacca cuore che non si ricordano di essere spacca cuore oppure Grisha legati agli elementi che non si ricordano di poter fare determinate cose o ancora persone che interagivano con i metalli e con gli oggetti che riescono a fare delle chiusure alle porte e basta ok che il grado di potere magari è differente da personaggio a personaggio però rimane il fatto che c'è un momento che a me rimarrà nella storia in cui uno squadrone Grisha fa un corridoio fanno questa specie di testugine no questa legione spartana no dove fanno questo questo muro per proseguire e quindi c'è sostanzialmente una testugine di combattimento per cui ci sono dei muri creati col vento intorno dei personaggi all'interno e stanno avanzando ma si fanno mica fregare dal fatto che c'è un ponticello e tre persone con un fucile arrivano in quel ponticello e rimangono li intrappolati per cinque minuti a combattere queste persone cioè Grisha io vi voglio bene avete i poteri ma non avete quella roba base che si chiama collo cioè che fa così da vedere uh sto per attraversare un ponticello siamo in guerra non è che mi manderanno giù direttamente la cera bollente roba che se letteralmente avessimo fatto un passo indietro al medievale e gli avessero tirato l'olio bollente avrebbero steso tipo più di metà dello squadrone di Grisha se questa storia doveva fondarsi su quella che è effettivamente una guerra una battaglia io nella guerra e nella battaglia ho visto pochissima preparazione e anche con poche risorse si poteva gestire meglio la questione visiva letteralmente espedienti da Deus Ex Machina per cercare di non bloccare la storia perché altrimenti se tutti avessero fatto quello che è il loro pieno potenziale uno schieramento sarebbe stato raso al suolo nell'arco di uno sbadiglio di uno dei Grish uno sbadiglio per quanto riguarda il finale che è diverso da quello dei libri e vi dicevo prima molti l'hanno criticato perché è un finale che oggettivamente scontenta e ripeto a me piaceva perché io trovo che i protagonisti Alina e Mal all'interno del libro siano così insulsi che questo si meritano un finale insulso perché penso che sono loro stessi causa del proprio male quindi va bene così all'interno di questa serie tv abbiamo visto invece un cercare di ampliare un pochino la vicenda in modo più interessante per esempio io nei libri Mal non lo sopporto per me è una Mal edizione ogni volta che lo vedo all'interno di questa serie tv mi sembra un personaggio senza caratterizzazione perché non è a fondo come quasi nessun personaggio al di là della storia d'amore io non vedo nient'altro questo è un altro degli elementi dovuto alla fretta di avere tre storyline quindi emergono molto di più i personaggi dei corvi che hanno delle storie molto più piccole delle quest vere e proprie quindi emergono molto di più le loro storie personali di cui in quel contesto lì in cui ci interessa la guerra tra Grisha non ci frega un cazzo o meglio a me sì a me piacciono i corvi a me sono piaciuti sono contenti però il discorso è che a livello di coerenza narrativa non ci siamo secondo me il finale cambiato lo capisco lo comprendo penso che sia interessante ma mi hai creato anche dei gruppi che in un certo senso uno in particolar modo dico ma dai vediamo cosa fanno ma di base mi hai creato un altro split possibile per il futuro che spero non ci sia una differenziazione che però mi sembra molto da e poi vediamo dove si va quindi hanno voluto chiudere una vicenda ma hanno lasciato aperta altre vie un plot twist molto interessante con dei costumi e della scenografia fatta bene tra l'altro nell'ultimo episodio ma non lo so cioè non trovo credibilità soprattutto perché alla fine comunque nell'ultimo episodio trova lo stesso un ruolo Mattias veramente la disgrazia secondo me di questa serie che si sono presi minutaggio per raccontare il nulla un personaggio che ha questo finale che non è un finale immaginate la mia rabbia di vedere questa storyline che per me non significa niente all'interno di questa serie tv per come è stata scritta non per i personaggi in sé che sono anche interessanti e vedere che non è assolutamente cambiato niente fate questo esperimento guardatela tutta e ditemi se le condizioni da inizio a fine sono cambiate anche in minima parte no c'è un leggerissimo cambiamento il problema è che quindi mi hai fatto vedere quanti spezzoni per non cambiare niente quindi abbiamo secondo me una mala gestione di budget una mala gestione di tempo di scene una mala gestione di storie e questa voglia di buttare un occhio verso il futuro che si poteva fare secondo me in molto meno tempo dando solo la possibilità di dire ehi noi continueremmo magari anche con uno spin off sui corvi senza però andare ad aprire troppo perché secondo me questa stagione poteva comunque essere una buona conclusione per quanto ripeto a me non sia piaciuto però hai effettivamente concluso la trilogia finisci lì finisci lì dimmi che si può andare avanti ma non lasciarmi un finale aperto invece secondo me hanno appositamente selezionato quello che è un finale aperto perché si si conclude la trilogia ma non del tutto perché vediamo un plot twist interessante quindi non lo so io non sono d'accordo con praticamente niente di questa serie tv ci sono dei personaggi soprattutto i corvi che mi sono piaciuti molto ma secondo me c'è una mala gestione di tantissimi aspetti di questa serie tv quindi no non ne sono assolutamente contenta ora che vi ho detto la mia chiedo la vostra nei commenti quindi fatemi sapere se avete visto questa seconda stagione se non l'avete vista ma avete delle aspettative cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto insomma chiacchieriamo un po' nei commenti e se questo video vi è piaciuto lasciate like commentate condividetelo e ovviamente iscrivetevi al canale che mi sento un po' ispirata e ho in servo per voi tutta una serie di video anche in italiano giuro in descrizione trovate tutti i miei social nel dubbio Giulia Bifrost su tutto in particolar modo su Instagram dove vi dico cosa sto facendo e dove e in descrizione trovate anche il mio romanzo zombie friend di ci si vede all'inferno se volete leggere qualcosa che ho scritto io ma anche tutti i link legati ai vari testi che ho citato all'interno di questo video così se avete modo di far piangere la vostra wish list ecco direi che oggi gli diamo una forte botta e niente belli il video è finito andate in pace ci vediamo alla prossima bye gente grazie a tutti Grazie.